Benvenuto al dottor Marco Squicciarini che è il commissario della Croce Rossa di Roma ma anche il referente nazionale proprio per le manovre disostruttive. Allora dottore, qui lei ci ha portato i suoi manichini e bisogna subito far vedere ai nostri ascoltatori cosa fare perché il più delle volte mi diceva lei che fanno i genitori, restano? Le persone possono rimanere bloccate, si chiama obnubilazio del sensorio quando si perde la cognizione di ciò che accade oppure l'emotività può rallentare le risposte. E anche perché non sappiamo, molti di noi non sanno come intervenire. Iniziamo dottore, si alzi se vuole con il neonato, facciamo l'esempio del neonato. Allora questo è un lattante, le linee guida si dividono lattante e bambino, lattante fino a 12 mesi mettiamo il caso di un ricurgito di pastina, latte, qualunque cosa va nei polmoni il lattantino diventa blu, la madre lo vede che insomma perde colorito, comincia a... Immediatamente diventano blu quindi il panico assale subito la mamma che invece che cosa deve fare? La prima cosa sicuramente se c'è qualcuno dare un'allerta, prenderlo subito per la mandibola perché così mi assicuro di non fare danni, lo appoggio sul braccio in questo modo, lo fisso e cinque colpi interscapolari, due, tre, quattro, esattamente, cinque che consentono la fuoriuscita a testa in giù del liquido, si rigira immediatamente e sono cinque compressioni lente e profonde al centro del pezzo, sullo sterno. Questa è la manovra di Heimlich modificata per il lattante. Questa manovra, molte mamme scrivono che già al terzo colpo esce il corpo estraneo che il corpo estraneo può essere anche una pastina, qualcosa di liquido o denso si libera il bambino, piange e ricomincia ad respirare. Allora, dottor Scucciarini, la mano dietro la testa a bloccare il collo serve ad evitare di fare un danno importante alla colonna vertebrale però la potenza che lei ha usato è proprio quella che dobbiamo usare per far uscire il corpo estraneo. Esattamente, esattamente perché la compressione dovrà creare quella... Si tiene bloccata quindi la parte sotto, guardate, uno, due, tre, quattro e cinque ma intanto al terzo già dovrebbe essere uscito tutto. Il 90% dei casi riportati si rigira, il bambino si mette in questa posizione a testa in giù vorrei far notare la mano attorno al collo a bloccare l'articolazione del collo prego dottore, uno, due, tre, quattro e cinque in questo modo voglio dire il bambino dovrebbe essere disostruito nel caso invece che ancora magari ha perso pure conoscenza che bisogna fare? Si posiziona su un piano rigido ci si assicura che sia stato allertato al 118 facendolo allertare con una chiamata di ritorno lo chiamo io stesso e a questo punto mi comincio a occupare di un bambino incosciente quindi si entra nel protocollo delle manovre di rianimazione che sono quelle che ad esempio imparano anche i bagnini non solo per medici un bagnino non è un medico ma può rianimare una persona Impariamolo anche noi, come si fa? Mano sulla testa, controllo il cavo orale, non c'è niente cinque insufflazioni di soccorso Avete notato che il dottore ha alzato un po' il mento Due, tre, quattro, cinque E si continua così finché non arrivano i soccorsi Esattamente Ecco, si continua E si fa un 32, 30 compressioni, due insufflazioni fino all'arrivo dei soccorsi, finimento del soccorritore ripresa dei segni di circolo Passiamo alla... ma intanto il nostro bambino è salvo Dopo queste manovre, insomma, noi siamo andati oltre Ma intanto Il bambino più grande, questo è il più grandicello che ora vediamo anche che cosa inghiottiscono insomma, mettono in bocca qualunque cosa Diciamo che si è strozzato diciamo con un pezzo di mela con una pallina con un qualcosa che ha inghiottito Che fare? Allora, si dice, ognuno vede ciò che conosce Festicciola, un pezzettino di mela Il bambino diventa scuro in volto Mani intorno al collo Che è il segno internazionale che richiama l'attenzione di una persona che ha un problema di soffocando Prima cosa, chiamare aiuto Aiuto, aiuto C'è un bambino che sta male Dopodiché lo prendo Passo sotto il suo braccio Guardate come si passa sotto il braccio In modo che mi ha... Così lo... Notate l'altra mano del dottore dietro la nuca Sempre la nuca va protetta perché il danno gravissimo che si può fare in questo caso è spezzargli il collo Esattamente Lo apposiziono a testa in giù sul mio ginocchio quindi posizione declive La mano passa a bloccare la mandibola sotto e quindi tiene firma l'articolazione del collo Esattamente Prego Ed effettuo 5 colpi interscapolari tra le due scapole con via di fuga laterale per non colpire la testa 1, 2, 3, 4 e 5 Al terzo la pallina è uscita Di solito esce Di solito E si alternano E si alternano E si alternano E dopo averlo spogliato e allineato Modica estensione Questo consente alla lingua di salire Controllo se il corpo esterno tante volte fosse fuoriuscito Se non lo vedo o lo vedo ma è giù posizionato in fondo non va toccato Ecco Perché adesso il dottore alla fine di questa spiegazione ci dice qual è l'altro grave problema L'errore che facciamo più spesso cioè scavare col dito Esattamente Si chiude il naso perché un bambino si soffia in bocca per 5 volte 1, 2, 3, 4 e 5 Dopodiché si cominciano le manovre di rianimazione che servono In questo modo Esattamente E si va avanti così finché non arrivano i soccorsi Faccio vedere un particolare Un particolare che nel caso in cui il corpo esterno venga inalato le manovre di compressione cioè rianimazione cardiopolmonare sono esse stesse disostruttive 1, 2, 3 Vedete? La pallina esce fuori Vedete? La pallina con questa manovra esce Esattamente Dottore Arrivano nelle rianimazioni al pronto soccorso tanti bambini Prego sia comodi tanti bambini che mi diceva lei sono tutti graffiati sono anche molto provati da manovre errate Esattamente Il messaggio è questo Linee guida internazionali prevedono quello che abbiamo appena visto e cambiano ogni 5 anni Nel momento in cui il bambino diventa incosciente il genitore si accanisce con il corpo esterno pensando che rimuovendo il corpo il problema si risolva Mentre spesso a volte è talmente incastrato che in quel momento la cosa importante è fermare il tempo effettuare queste manovre di rianimazione per dare perfusione cerebrale e permettere ai soccorsi avanzati che arriveranno anche dopo mezz'ora di trovare un bambino recuperabile il mese dopo gioca a pallone Allora il dottore ha scritto lui la sua equip questo manuale poi c'è anche questa guida che sul vostro sito quello della Croce Rossa www.cree.it o tramite anche una happyfamilyollus.it è possibile scaricare gratuitamente tutto il materiale e portarlo all'asilo dei propri figli Noi abbiamo detto però la metà di quello che dovevamo dire perché c'è tutta una casistica che loro hanno fatto sugli oggetti che più frequentemente i bambini tendono ad inghiottire soprattutto i più pericolosi sono le pile degli orologi che sono devastanti e quindi facciamo noi adulti molta attenzione